Pensiero del giorno. Presto attenzione al mio intuito e lo rispetto. Le mie sensazioni mi tengono al sicuro in tutti i sensi, perché sono Dio e gli angeli a portarmi attraverso di loro. Non giudicare. Il giudizio ti porta a dividere le cose in categorie. Questo è il metodo di semplificazione del tuo ego, il tuo io superiore. Al contrario utilizza il discernimento, che si fonda su sensazioni di attrazione o repulsione nei confronti delle energie di una persona, di un oggetto o di una situazione. Il giudizio dice questo è male o questo è bene, mentre il discernimento afferma sono attratto da questa situazione o queste circostanze non fanno per me. Uno divide e separa mentre l'altro lavora con la legge dell'attrazione. Oggi abituati a non giudicare in nessuna situazione e in nessun rapporto. Permetti agli altri di essere se stessi e di agire in modo diverso da te. Sii gentile nei tuoi pensieri e considera te stesso con compassione. Rispetta le sensazioni che ti spingono verso le varie situazioni o che ti allontanano da loro. Il discernimento sarà il tuo fidato mentore. pensiero del giorno